Si chiama Búria Muání Amí No, si chiama Búria Muání Amí Non è il mio... ...degu' si fa per com'è ...è l'unico in Italia... Ma chi non sta seguendo? ...è l'unico in Italia... ...è l'unico in Italia... ...è la sua foresta ...è la sua foresta... ...è la sua foresta... ...è la sua foresta... ...è la sua foresta... ...ma quale? ...Bucca Margarita... ...Ciao! ...grazie a te! e metto anche lei nella porta ok grazie a te grazie a te guarda leggermente ci mettiamo questa visita questo qui dobbiamo aprire qui dobbiamo aprire dobbiamo aprire si ferma qui così lavorate brava brava benvenuto il presidente grazie grazie ok ragazzi qui dobbiamo aprire forza forza poi abbiamo i cleri dove faremo il servizio non possiamo il percorso è non la fate più andare via quando vuoi ok grazie grazie scusa grazie grazie io abbiamo detto l'ho finito anche tu l'ho finito non è Grazie a tutti.